Festa del Capodanno Veneto all'affaro di Caorle. Nella prima parte abbiamo assistito all'intervista a Matteo Salvini che parlava di temi nazionali. Noi abbiamo rivolto al segretario federale del Carroccio una seconda domanda. Può partire il contributo? Un'ultima domanda relativa alla proposta anche di legalizzare la prostituzione. In Colorado hanno legalizzato l'uso di droghe leggeri, si aspettavano 30 miliardi in un anno, in pochi mesi ne sono arrivati 98 di miliardi. Forse questa è la strada maestra anche per lo Stato? Sì, però la droga fa male e il sesso no, se protetto è fatto con intelligenza. Quindi come Lega proporremo referendum per togliere le strade, regolamentare e tassare la prostituzione per cancellare un'opocrisia e far pagare le tasse a delle lavoratrici e a dei lavoratori. Sulla droga e soprattutto normalizzarle anche dal punto di vista sanitario. Assolutamente, è un controllo di interesse di tutti perché è un mestiere a tutti gli effetti e quindi che si controlli e si tassi come accade in Svizzera, in Germania, in tanti paesi europei, sulla droga la battaglia invece è senza quartiere.